Carissimi pellegrini e amici del Santuario di Sant'Anna, vogliamo anzitutto darvi la notizia che la strada per il Santuario è ufficialmente aperta e che apriremo il Santuario la domenica 20 di giugno con la solenne Messa delle ore 11. Ma vi ricordiamo anche che il 2 di giugno, mercoledì, avremo il primo incontro al Santuario con la celebrazione della Santa Messa alle ore 11, quello che chiamiamo il primo pellegrinaggio. Anche nel caso di brutto tempo, di pioggia, si celebrerà in questo caso all'interno e sotto il porticato. Per chi desidera salire a piedi, l'appuntamento è alle ore 8 presso la casa in pietra della centralina che si trova a metà percorso tra Prato Lungo e il Baraccone. Poi si salirà individualmente a gruppetti di due o tre per arrivare al Santuario alle ore 11. E allora vi attendiamo, è un segno che le cose stanno riprendendo, che la vita del Santuario si sta risvegliando. Grazie a tutti.